Una macchia nera di notevole larghezza è stata individuata sulla sponda sinistra della foce del fiume Salso, a causare la formazione dell'estesa chiazza la fuoriuscita di liquido nero da un tubo di scarico afferente all'impianto di depurazione di contrada Ripellino. Sul posto sabato sono intervenuti i militari dell'ufficio circondariale marittimo di Via Libotti e gli agenti di polizia municipale di Piazzale Libia, agli ordini del commissario Giovanna Incorvaia. Il blitz è la conclusione di una lunga attività di controllo di tutela ambientale messa in atto sia dalle capitanerie di porto che dalla municipale. La macchia nera in acqua era visibilmente distinguibile anche osservando dall'alto del ponte che collega il quartiere Fondachello Playa con il corso argentina. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato quella che ha tutta l'aria di poter diventare una bomba ecologica. La guardia costiera ha immediatamente provveduto a prelevare dei campioni di acqua nera che sono stati inviati alla sezione di agrigento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale per le necessarie analisi e verifiche sull'effettiva natura del liquido. Gran parte del liquido nero scaricato dal grosso condotto di sfogo ha invaso anche la piccola insenatura che delimita la sponda sinistra della foce del salso. Saranno le verifiche dell'ARPA a chiarire se si tratta di inquinamento ambientale e in quel caso bisognerà ovviamente accertare responsabilità. Del problema si è prontamente interessato anche palazzo di città per mezzo del vice sindaco Angelo Cambiano e dell'assessore alle risorse idriche Carmelo Sambito. È da ieri mattina che siamo in contatto telefonico già con il comandante del porto Luca Montenove che ha fatto il primo superluogo e la dottoressa Giovanella Ngonvaia responsabile della polizia municipale. Ieri ci siamo sentiti diverse volte e stamattina ci siamo risentiti anche con la dottoressa Mangione. L'amministrazione ha già scritto per competenza alla polizia giudiziaria nostra che è la polizia municipale di compiere tutti gli atti necessari attraverso la legge affinché venga tutelata la salute dei cittadini e stamattina stesso si inizierà un discorso di campionatura e di prelevamento di nuovo delle acque sulla foccia del fiume Sasso oltre a scrivere aggigendo acque e chiedere spiegazioni nel merito di quello che è successo e quali sono gli strumenti che sta adottando immediatamente per superare l'accaduto. Il problema verrà affrontato anche attraverso un tavolo tecnico? Sì, sono le 11 a mezzogiorno abbiamo un incontro con la dottoressa Mangione e il comandante del porto per capire come muoverci e quali altri enti oltre aggigenti acque ma è superfluo aggigenti acque e non interessa che vengano le istituzioni a garantirci anche come città e quindi di competenza l'assessorato regionale, la prefettura, stiamo coordinandoci nel merito. Grazie a tutti.